Il 27 febbraio è stata finita in vita tutta la comunità alla 157 celebrazione della notte esistente a piedi della dolorata, è stata messa verso la chiesa di Orsense in Epoca, per informazioni 416-243-73-19. Dal 27 febbraio al 3 marzo la Gera Zerbo Studio Society presenta Le avventure di Pinozio, presso il Columbus Center, per informazioni 416-451-77-37. Il 1 e 3 marzo Opera Young presenta la famosa opera Don Giovanni, presso il Columbus Center for the Performing Arts in Epoca, per informazioni 905-787-88-11. Il 2 marzo la politica a questi anni è in vita tutti a mia riveta per il Martin Crossmaster, alle ore 17, per informazioni 905-833-53-68 oppure visita del sito info-amerene.com. Il 4 marzo Messa in Onore di San Pio alle ore 19, con il Santo Rodale seguito da Santa Messa, presso la chiesa di San Bernardo su Lorenz & Game, per informazioni 416-241-73-38. Il 9 marzo la comunità di San Pio alle ore 19, con il Santo Rodale, celebra la vista in Onore del Santo, a metragiorno presso la chiesa di San Bernardo su Lorenz & Game, per informazioni 416-241-77-38. Dal 10 al 13 marzo Missione Quariginale, presso la chiesa di St. Bernardo su Lorenz & Game, per informazioni 416-393-5296. Il 16 marzo la cattolica e la chiesa di St. Bernardo presenti festeggiamenti per il dittesimo anniversario in Onore di San Giuseppe of Warbridge, per informazioni 416-985-46-18. Il 16 e 17 marzo festeggiamenti organizzati dal Comitato Festa di San Giuseppe della Comunità in Onore del Santo con la tradizionale tavola presso la chiesa di San Giuseppe of Warbridge, per informazioni 515-533-8309. Il 17 marzo ATEM presenta la festa di San Giuseppe, l'Arcario presso la sede del Troppo of Warbridge, per informazioni 905-856-5775. Il 17 marzo Il 18 marzo Il 19 marzo L'appuntamento è a domani sera, ha avuto un buon intensimento di serata tra tutta la squadra di Raffa. L'appuntamento è a domani sera, ha avuto un buon intensimento di serata tra tutta la squadra di Raffa. L'appuntamento è un buon intensimento di serata tra tutta la squadra di Raffa.